Ciao a tutti dall'IBC 2023, una delle più grandi fiere a livello internazionale sul broadcasting. Si tiene sempre qui ad Amsterdam e in questa edizione ci siamo anche noi. Adesso andremo a intervistare i visitatori e gli espositori per chiedere le impressioni su questa edizione. Io lavoro in Rai ma più nell'ambito IT, quindi mi interessa principalmente la parte di archiviazione materiale, gestori di contenuti, sistemi di ingest real-time o comunque di ingest di contenuti in alta qualità. Ci occupiamo di prodotti e di distribuire materiale per il cinema e per il broadcast. La mia terza IBC è come ogni anno è sempre un'emozione. Sono qui per partecipare alla fiera internazionale del video in qualità appunto del distributore ma di parte dell'azienda Leofoco. I am here with YOLO Live, they make live streaming appliances for both horizontal and vertical streaming. I sort of specialize in the live streaming area, I'm based in America. Lavoro in HPRC, l'azienda è Klaber in verità. HPRC è uno dei nostri tre marchi. HPRC che vedete alle spalle, produciamo valigie in plastica, 100% made in Italy. Sono nel settore delle trasmissioni digitali della radio, quindi il DAB. Sono qui a vedere cosa c'è di innovativo, a cercare nuove soluzioni tecnologiche che sono disponibili, vari aggiornamenti nei prodotti, nella qualità, nell'efficienza, oltre che anche magari soluzioni rivolte all'ecosostenibilità, quindi prodotti che comunque inquinano meno come assorbimento elettrico, pezzi di scarto, dimensioni, quindi efficienza di tutti i generi. Il primo anno che vengo all'ABC ho trovato veramente una fiera interessante, essenzialmente per due motivi. Il primo motivo è legato alla quantità di vendor che troviamo, non solo l'ambito broadcast, l'ambito IT, è veramente completa come fiera. E' anche un'ottima scusa per incontrare tutti quei vendor che poi lavorano con noi in un'azienda, ma magari non vedi mai, si cambia soltanto l'email. Gli incontri qui ti mostrano qualcosa di nuovo, è anche l'occasione per analizzare qualche problema, qualcosa in cui non sei riuscito a risolvere di persona, magari ti indirizzano su qualcun altro, conosci la persona specializzata nel settore che ti serve. Penso sia veramente una bella fiera. La fiera è molto interessante perché è la prima vera fiera importante in Europa dopo la pandemia, quindi anche gli altri anni è stato un po' timido come approccio, invece quest'anno è andato tutto secondo me bene, nel giusto modo. Io ho sempre partecipato anche al Fotochina e ho visto una partecipazione superiore proprio perché c'era bisogno di una fiera simile. Oltre a questo c'è anche da dire che negli ultimi anni, come tutti sappiamo i mondi alla fotografia del video si sono fusi completamente e quindi diciamo che chi non sarebbe magari venuto cinque anni fa perché le fotocamere facevano foto e la videocamera faceva il video, adesso sono quasi obbligati a venire qua. Quindi è un appuntamento che secondo me diventa immancabile anche per i prossimi anni. Questo è il mio primo anno all'IBC, quindi non nemmeno nemmeno compare questo IBC con altri IBC, ma ho avuto il NAB, e devo dire che questo è un po' di persone guardate un po' di acquittà in tutto il mondo, quindi questo è un grande show, c'è un po' di nuovo, c'è un po' di nuovi prodotti, c'è un po' di venerable brands, qui mostrando nuovi sviluppi che hanno chiaramente avuto l'industria avanti. Quest'anno ho visto molta connettività, quindi sicuramente tanti sistemi di streaming, integrazioni con camera FPZ, quindi sicuramente il mondo delle interconnessioni sta andando alla grande. In particolare noi, per esempio, siamo distributori esclusivi del brand Atomos, che si è spinto davvero tanto verso la connettività e quindi sull'utilizzo di piattaforme di tipo cloud. In particolare anche, per esempio, allo stand Canon, così come allo stand Sony, abbiamo notato davvero l'interazione tra camere offline e camere online, quindi con un'interconnessione, protocolli IP, davvero c'è un'interconnessione totale in qualsiasi parte del mondo. L'azienda rappresenta la IBC da 12 o 13 anni, ovviamente abbiamo anche noi perso i colpi del Covid. Questa edizione che mi ha colpito tanto era quella dell'anno scorso, ma c'era un motivo valido, ovvero la post-Covid. Però sì, è stata bella quella dell'anno scorso. Questa qui mi sembra in linea, appunto la percezione un po' più bassa, non puoi mai dire la qualità della visita, dei visitatori comunque è veramente alta. Il bello della fede è proprio questo, che hai sia la parte lavorativa, quindi incontri cose che vedi tutti i giorni a loro, ma poi sia la parte hobby, quindi mi piacciono particolarmente le macchine fotografiche. Stavo dando un'occhiata allo stand Canon, Sony, WS, Dale, David, mi stanno a volontà. Diciamo che ho trovato molte cose interessanti. La prima cosa che ho visto il primo giorno, giusto per fare un esempio, è la nuova videocamera Burano di Sony, che è un nuovo standard mondiale, per quel prezzo è incredibile, a livello di funzioni e di qualità. Ho visto molto interesse, poi ho visto molte altre cose interessanti, anche da altri. a livello di funzioni, in modo da più piccolare, in 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 più piccolare. E poi bisogna qualcosa di più piccolare, per avere un'acchiazza, per avere un'acchiazza, per avere un'acchiazza. La tecnologia è... ...maia, è fantastico, che abbiamo potuto so molto, in più, e poi ciò che ciò si tratta, come un'acchiazza, dove è il nostro streaming, e poi ho bisogno di usare, c'è qualcosa di più, perché i miei piedi non erano più piccoli. Ma questo è quello che vedo, molti brand che vengono con nuovi, piccoli, compagni, prodotti, compagni. Un'attività sensoriale rivolta all'utente finale, ma anche un'attenzione sui contenuti. Nell'ottica futura sicuramente c'è un'attenzione maggiore all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per una migliore gestione, una migliore capacità di aumentare l'efficienza. Queste sono solo alcune delle interviste che abbiamo fatto, ma parlando con le persone quello che ne abbiamo evinto è che assolutamente questa è un'occasione importantissima per tutti i professionisti del settore, sia perché riescono a stringere delle nuove collaborazioni, delle nuove alleanze con altri professionisti, ma anche che è una cosa simpatica, riescono a incontrarli quando la collaborazione è già attiva, ma magari vivendo in paesi diversi non si sono mai visti prima dal vivo. Inoltre parlando con tante persone ci siamo resi conto di quali sono i trend di quest'anno, più o meno quali sono le visioni future dei vari mercati, ma di questo parleremo in un altro video apposito. Quindi continuate a seguirci per gli altri contenuti dall'IBC 2023. Ciao! Segui il nostro viaggio e resta connesso con Wondershare per non perderti le ultime novità dall'IBC 2023. Metti mi piace, condividi e iscriviti per far parte della nostra comunità creativa.